Fiadda, l'associazione famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi. In studio la Presidente e la signora Lorena Coloni. Dunque l'attività della Fiadda qual è esattamente? L'attività della nostra associazione, innanzitutto volevo chiarire una cosa, siamo un'associazione noi di genitori, siamo famiglie, siamo un'associazione distribuita su tutto il territorio nazionale con 35 sezioni e operiamo nel settore della sordità più o meno dal 1970, quindi anche se è meno conosciuta è una lunga tradizione. La vostra attività in cosa consiste? L'attività nostra è soprattutto quella informativa, quella di stimolare sia il settore scientifico che quello istituzionale, che quello scolastico sul problema della sordità e il messaggio che la nostra associazione di genitori vuole far passare a tutti i livelli e quindi è quello che un bambino che nasce sordo, anche grave, profondo, può facendo un percorso corretto, quindi una diagnosi precoce alla nascita, una corretta protesizzazione e una abilitazione in un centro dove ci sono le eugopediste, il bambino arriva a parlare la lingua italiana. Quindi noi vorremmo fare una rivoluzione soprattutto culturale, quella di identificare il bambino sordo, il giovane sordo come una persona che ha una disabilità ma che può essere chiaramente superata. Come diceva Don Milani, se non c'è la lingua, non c'è integrazione, non c'è autonomia e soprattutto non c'è libertà. Quindi un bambino sordo, è sordo e quindi sicuramente delle difficoltà ci sono ma certamente è un sordo che parla. Possono essere superati purché la società poi dia una mano in questo senso. Voi avete uno slogan che mi sembra interessante, non voltarmi le spalle, ho bisogno di vederti per sentirti meglio. Cosa vuol dire esattamente? Esatto, perché il bambino è sordo e ha bisogno di guardare nel volto il suo interlocutore per poter leggere le labbra. Perché parla però rimane una persona sorda, con una sordità molto grave. Chiaramente i bambini che hanno una sordità lieve o media mettono la protesi e compensano il loro deficit, come me che devo mettere gli occhiali per poter vedere e leggere. Mentre invece il bambino che nasce sordo e profondo ha bisogno di fare un percorso con la logopedista che dura alcuni anni. Quindi indubbiamente la regione toscana in particolare ha sancito nel piano sanitario un percorso correttissimo e bellissimo che deve essere ora semplicemente attuato. Perché praticamente per poter arrivare a un linguaggio adeguato il bambino deve poter andare dalla logopedista per alcuni anni e arrivare poi in prima elementare e fare un percorso di studi corretto. Senta, per mettersi in contatto con la vostra associazione, so che c'è un numero, se lo dica. Sì, dunque il numero di telefono è il 339-2497-469, altrimenti un indirizzo mail www.fiaddatoscana.it Martina Forzoni è la riprova di quello che stava dicendo la Presidente, attraverso un percorso non c'è bisogno di parlare a persone che sono sorde con il linguaggio dei segni, ma si può parlare attraverso le parole e con il linguaggio labiale. Ecco, come è avvenuto questo percorso? Lei cosa ha fatto? Io ho imparato, i miei genitori mi hanno mandato a questo centro che si chiama Cro, e ho imparato a parlare come tutti i ragazzi normali, e ho imparato la lingua italiana, e quindi io ho capito un percorso di vita come tutti i ragazzi normali, sono andati a scuola, le elementari, le medie, ho fatto la chilo, le superiori, ho fatto una vita tranquillissima, e appunto che io avevo imparato la lingua dei segni, lui ce l'avevi più a parlare... Certo, a parlare direttamente, e infatti... Io avrei avuto il mio gruppo di amici, non avevo avuto una vita normalissima, invece ora con il mio linguaggio vocale, la lingua italiana, sono contentissima, sono autonoma, libera, faccio tutto quello che voglio, diciamo, però... È stata una bella soddisfazione di riuscire a inserirsi nella scuola con gli amici, insomma... È una bellissima soddisfazione, veramente... Sono contenta di quello che ho fatto e che sto facendo. Dunque questo può essere un esempio anche per tutte le altre persone che possono attraverso questo percorso arrivare a parlare, come si parliamo tutti. Sì. Va bene, allora, molti... Molti auguri anche per le sue attività, cosa ha fatto realmente? Ma vado a scuola, ecco, vado a giro con i miei amici... Che scuola frequente? Quale scuola frequente? Io faccio l'istituto d'arte a Firenze a Porta Romana e l'indirizzo di altre grafiche... Bene. Come tutti, c'è gli altri bracci... Certo, come sempre la scuola e come sempre la vita. No, mi trovo benissimo... Va bene, grazie, arrivederci. Grazie a tutti.